Partiamo da un dato. Come riportato da Trapani Granata.it, Alfio Torrisi ad oggi è l'allenatore imbattuto in tutti i campionati, dalla Serie A alla Serie D. Se è vero che i numeri non dicono tutto, questo però è un dato inconfutabile. Merito quindi ad una squadra e ad un allenatore che stanno rispettando le aspettative. Sabato sera, in un provinciale da record, 5.839 spettatori contro una buona nuova Ejei Virtus, i Granata hanno inanellato l'ennesima vittoria, corretti di Balla e di Bà, nonostante la squadra di Di Gaetano avesse accorciato le distanze. Una vittoria che porta Granata a 27 punti, a 2 dal Siracusa. Ascoltiamo mister Torrisi nel post-gara. Buonasera a tutti, intanto difficilmente sbagliamo la valutazione dell'avversario. Eravamo consapevoli che era una partita tosta e difficile. Colgo l'occasione per fare i complimenti all'Ijei Virtus per quello che è dimostrato oggi sul campo, per la benegazione, per il spirito di sacrificio. La squadra è ben messa in campo, una squadra che sapevamo che ci avrebbe dato filo da torcere. Sono pienamente d'accordo con lei, primo tempo contratti, poca pazienza, forzavamo troppo la giocata, ci allungavamo troppo in fase di non possesso, eravamo su più linee però con troppe distanze tra le parti e questo magari ci comportava a forzare troppo la giocata e non essere pronti sulle seconde palle e quindi soffrivamo anche, non eravamo, non facevamo densità zona palle e quindi soffrivamo questi rilanci poi dove eravamo molto lunghi e non riuscivamo a rieggredire. Abbiamo trovato il gol, siamo passati in vantaggio, ne abbiamo avuto un'altra occasione con Agostino, tutto sommato non abbiamo rischiato tanto però diciamo che l'Igea era sul pezzo e ci ha dato filo da torcere. Il secondo tempo penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, siamo stati intensi, abbiamo avuto pazienza, quello che ci è mancato nel primo tempo, peccato sul 2-0 potevamo avere più di un'occasione per chiudere la partita e poi magari su un episodio sfortunato abbiamo preso il gol del 2-1. Fino a quel momento non abbiamo mai rischiato, non abbiamo mai subito l'Igea e quindi partiamo da questo secondo tempo e facciamo tesoro degli errori fatti dal primo. Penso che alla fine è una vittoria con una squadra che i precedenti in questo campionato, le ultime uscite dell'Igea dicono che veniva da tre vittorie consecutive, ribadisco che nelle ultime cinque gagne aveva vinto e quattro, quindi era la quarta in classifica e sapevamo che la partita era molto complicata. Però alla fine l'abbiamo vinta con merito, ci godiamo questa vittoria e già da domani mattina pensiamo alla prossima.